...permesso alla Perugia di andare in vantaggio, c'è un traversone di Butti, il colpo di testa di Cacciatori che rispinge, che è ribattuto dal palo e poi l'intervento decisivo di Vannini. Anche in questo caso, come capita spesso al Milan, la difesa è rimasta un po' a guardare, mentre ormai nella tradizione dei rossoneri subire un gol nei primi minuti. Vedete invece come Antonelli, con un bellissimo gol, l'azione è personale, abbia interrotto la lunga serie.